Ciao a tutti a Poderak, bentornati qui nel DLC della Polonia, adesso siamo con Ivan Hull Siamo pronti per andare in Cracovia, guardate che bei fiorellini, è arrivata la primavera E abbiamo un bel po' di turisti da far salire a bordo, vediamo se questa mi ha fatto la registrazione giusta Cracovia, Cracoa, Cracau, bellissimo, a posto, benvenuta signora, gli devo fare pure il biglietto io Non c'è problema, io lo faccio subito, mi dia solo il tempo di trovare dove si trova Cracovia Nella speranza che me l'abbiano aggiunto nella nostra lista qui che abbiamo Ok, perfetto, grazie, buongiorno, lei vuole salire, ha già messo i bagagli a posto, perfetto, sono contentissimo Perfetto signorina, grazie mille, dopo le offro un caffè se vuole, anzi ce l'abbiamo a bordo del nostro Van Hull Ok? Allò, bentornato campione, ok, buongiorno, come sta? Tutto a posto, ok, ah, lei deve fare il biglietto signora Non l'ho, 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 non l'ho Ok, siamo, oh ma abbiamo gli specchietti digitali, no, non sono digitali, ma mica erano digitali alcuni Oh, buongiorno, ah sì, erano digitali, non mi ricordo, c'erano quelli digitali, boh, boh, non mi ricordo Vorrei dire una cavolata, non ci gioco da tanto tempo Allora, vediamo qua dove si sale a bordo, ok, speriamo che il volante funziona, oh, funziona alla grande Tic, 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 allora vediamo, la telecamera è un po' sparata a cavolo Ti giuro, non capisco dove, fammi vedere dove sta andando, ah no, no, è giusto, è giusto Ok, è un po', è un po', ok, ma non c'è qua uno specchietto frontale, cioè io come faccio a sapere se beccherò il marciapiede appena farò La manovra in avanti, non lo sappiamo, va bene, va bene, non c'è, non ho tanto qualche specchietto qua Qua ci sono solo gli specchietti, tipo se c'è davanti un ciclista o qualcuno Allora, in realtà questi autobus li hanno fatti molto bassi, quindi non è vero quello che dico Come li hanno fatti bassi a livello di autista, non c'è più questo problema Sono curioso perché Cracovia invece è una città importante rispetto alla... oddio! Chi sono io per dire che una città è più importante dell'altra? Più che importante è conosciuta, ok E qua siamo in Polonia ragazzi, eh, in Polonia mi piace il fatto che... Allora, io non me li ricordavo tutti sti fiori Mo' che è arrivata la primavera, mo' che è arrivata Prima non era marzo nel gioco, era dicembre nell'altro gameplay, adesso è marzo E sono usciti i fiori, raga, io non so se c'erano anche prima, di sicuro la neve è sparita Guardate quanto è bello questo... ma è arrivato su console, raga, amici di console, vi è arrivata poi questo DLC a voi o no? Perché solo su console... non mi piace tantissimo la strategia che hanno adottato Praticamente su console, se volete gli autobus, c'è il pacchetto che non comprende solo un marchio Io ti prendi questo, più man, più... tanti altri E quindi è un po' più bruttino Non hai tutta questa libertà, va bene Ecco, un'altra cosa che non mi piace, che hanno fatto, anche su PC, è che... questi hanokull, come li chiamano loro Non è che tu dici ne compri un... ne devi comprare due, mi sembra, di DLC, per avere anche quello a due piani Se no ti prendi solo quello a un piano Fischio, già me lo stai facendo pagare Tipo l'SCSO software, se mi mettono un nuovo camion non me lo fanno pagare Qua si, questo mi rode Però... è anche vero che come gioco, essendo molto di nicchia Loro si finanziano così, quindi accetti, non accetti Oppure magari una strategia del loro distributore, dell'aerosoft Che dice, no dovete far così, dobbiamo aumentare gli introiti Che ne sai tu, che ne sai tu come funziona il mondo, quanto guadagno Però, secondo me, è un gioco che merita Un gioco che... è forse uno dei pochi su console che io acquisterei Cioè, se io non avessi una console, dopo averlo provato, giocherei a questo Tipo, on the road non mi piace, non mi piace su console Fernbus, sì E spero tanto che vi arrivi anche The Bus Allora, The Bus ha una... oddio, mo la gufo però Allora, avevano detto, mi ricordo, l'anno scorso a luglio Che doveva uscire, probabilmente Verso dicembre 2023 Io ho detto, vabbè, non è uscito a dicembre Lo faranno uscire a gennaio, febbraio Siamo a marzo, tra poco siamo ad aprile Non hanno neanche accennato la possibilità che arrivi... Un annuncio, guardate Non lo so che è successo Ve l'ho sempre detto che The Bus è un gioco incompleto È un gioco che ancora non ha un'economia Non ha un sacco di cose Quindi non so come riescano a pensare minimamente di portarlo su console So che tanti di voi comunque lo vorrebbero giocare lo stesso Però non è un gioco completo Non è un gioco che ha un'economia È un gioco che, insomma, tu guidi un autobus, stop Quindi è per questo che forse secondo me stanno tentennando Perché dicono, prima cerchiamo di completarlo Però loro, per completare i giochi, non ci mettono un mese Ci mettono una vita Poi a volte siamo troppo esigenti, secondo me A volte veramente non diamo peso a quanto lavoro c'è dietro a un gioco Per noi è tutto sconto Tipo questo DLC adesso della Polonia che è arrivato Allora uno dice, vabbè, che brutto No, costa un botto di qua, di là Ma, ragazzi, ma sapete quanto ci hanno messo magari per far solo quella torre lì Che vedete lì Quella torre che vedete lì Ma sapete magari quanti... Un giorno ci sarà voluto magari per far solo quella torre Vabbè, ha molti prefabbricati Sono sempre tipo gli alberi Sono sempre magari gli stessi Fai copy and call Tipo, anche... Vabbè, anche quei... Anche quell'escavatore c'era già Però, molte chicche magari Che c'è solo in Polonia Eh, le devono fare da zero Quindi ci vuole tempo Ci vuole tempo Ok, che c'è un team dietro Ognuno ha la sua task C'ha tutto, quello che volete Ma Io sono sempre Prima di giudicare Penso al lavoro che c'è dietro Certo, questo non giustifica Che se tu ci hai messo un anno a fare un gioco e penna merda Te lo devo comprare Assolutamente Che ci vuole il giusto peso La giusta fiducia ci vuole Tra cliente e sviluppatore Io per dire Fernbus C'ho la fiducia Nella TML Studios Assolutamente Già per dire Poveri Underworld Ma perché? Perché sto criticando Underworld? Non hanno fatto niente Per esempio Underworld La fiducia è un po' meno Per dire Loro hanno detto Eh, mettiamo l'italiano di qua di là Ancora io sto aspettando Su console L'arrivo dell'italiano C'era anche un ragazzo Che mi segue qua su YouTube Guarda L'ho fatto io La traduzione in italiano Arriverà nel prossimo aggiornamento Poi mi ha scritto Eh no Poddy Hanno rimandato tutto Non si è capito un cavolo Non si è capito un cavolo E siamo a marzo E ancora io Italiano mi sembra Non l'ho visto su console Non mi è stata data questa notizia Va bene La dura vita Del Dello sviluppatore Chissà com'è la vita Di uno sviluppatore Di videogiochi Tipo Mi piacerebbe un botto Avere un vlog Da fare Vabbè oddio Ma sai che la TML Studio In realtà forse li fa Fa i De Develop Vlog Però in tedesco Mi sembra O in inglese Non lo so Dove ogni tanto mostrano Il loro ufficio No 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 La SCS Software È la migliore Per dire no Tornando a parlare Di sviluppatori Cioè Tu Diresti mai che Dietro Eurotrack Ci lavorano 500 persone Poi c'è Tizio Caglio Sempronio Che da soli Fanno un simulatore In tre Fanno un simulatore Poi vedi La SCS Software O la Giant Software Sono in 500 Tu dici Ma che cacchio Fanno in 500 Eh Poi non bastano Neanche A quanto pare Però è un gioco È un gioco Stato Ma per dire Anche GTA 6 Lavoreranno Almeno Un mille persone In quel gioco A ver che Ognuno Ha il suo compito E quel compito Lo deve fare Perfetto Perché poi Tutto al gioco Deve essere perfetto Eurotrack Simulator 2 È un gioco Perfetto Veramente Pochissimi Bug Ma pochissimi Cioè Secondo me Potrebbero Prima o poi Fare Se trovi un bug Ti paghiamo Perché veramente Io A livello di bug Eh ma Podrack Io ho trovato Sto Dimmi la lista Delle mod Se tu giochi In vanilla Su Aerotrack Le bug Veramente Pochissimi Veramente Pochi 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 Io ho fatto Veramente Fatica Cioè Per dirti Cosa Intendono Bug Per bug Il bug Su Aerotrack È l'erba Su Che c'è Magari Sulla strada Quello è un bug Ma non è neanche un bug È un errore Da sviluppatore Il gioco Funziona tranquillamente In altri giochi Tipo Fernbus Magari Ti trovi un bug Che proprio Ti blocca il gioco Un bug Che ti fa Crashare il gioco Ecco quelli sono bug Che Ma Aerotrack Non ce l'ha Questi bug E si vede Per via Del Ma anche Anche Farming Simulator Non c'ha Veramente Non mi è mai capitato Di sentire E quei pochi È perché hanno scaricato Le mod Ma ragazzi Le mod Non c'entrano niente Negli sviluppatori Cioè Per quanto loro Si possono impegnare Se poi la mod È fatta di Di merda Non c'hanno niente Non è che possono Fare qualcosa Loro L'unica cosa Che possono fare È i backup Dei salvataggi Che per esempio Aerotrack Li fa Ogni aggiornamento Si fa un backup Dei salvataggi Allora Mettiamo adesso Il nostro Autobus Pronto per Una sosta Come qua C'è un autogrill Ecco per dire Questo autogrill Non mi fa impazzire A livello di dettagli Però c'è È carino Tipo qua Il dettaglio è un po' Spoglio Magari Magari è così Nella vita Non sono mai stato In Polonia Quindi Non posso dirlo Però penso Che Facendo così Facciamo la sosta Un po' Spoglio Com'è Perfetto Allora Immaginati se Andando di qui Dopo c'è Un camion Alla fine E quindi non posso uscire Probabile No no Spero che questa Sia una stradina È una stradina Oddio Non è una stradina questa Ma Ma che scam è Cioè Io Per dire qua Era tutto pieno Di parcheggi No Tutti parcheggiati Come uscivo Che mi hanno fatto La stradina davanti Come se fosse Tipo L'uscita Di un qualcosa Invece non lo è Ok Va bene Tanto per fortuna Non ci sono Oddio Fare l'incidente Con un'auto così Ok Perfetto Ok Andiamo 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 Le precedenze Andiamo Le precedenze Signori Benvenuti A bordo Della Podtrak Trasporti Ah Infatti Io non ho messo L'annuncio L'altra volta Lo mettiamo Adesso L'annuncio Penso Magari Andando Nelle impostazioni Di gioco Si potrebbe Anche trovare Il file Per Andarla Sostitu Secondo voi Questo camion Mi farà passare Ma è nella vita Se non accelero io Non mi fa passare E questa volta La Cracovia è bella lontana Siamo ancora A 56 km Il limite È 140 Addirittura 140 Quanto stiamo andando Noi mi sa che non andiamo Più di 110 con l'autobus Veramente in Polonia Alexa quanto è il limite Di velocità In autostrada In Polonia 140 140 E beh ma anche in Italia Dovrebbero aumentarlo Cioè Io penso che ormai Con le auto Che abbiamo raggiunto Un 150 E molte autostrade Le potremmo mettere Perché effettivamente Hanno raggiunto Un livello di stabilità Le auto A livello anche di freni E tutto Che 150 Ci potrebbe anche stare Per dire Qua in Polonia Hanno messo 140 Non è neanche troppo Quindi Ma in realtà poco importa Perché Sia con l'autobus Sia con Il camion In realtà Penso che ci siano Comunque limiti 90 Tipo Ma qua non c'è scritto Sul mio Autobus Dietro Di solito c'è L'adesivo Che ti dice Guarda Il limite è tot Fai attenzione Tipo qua il limite è 120 Perché probabilmente C'è sta curva Ah ma io avevo Messo Mica avevo messo La mod Cavoli Ogni volta che si aggiorna Il gioco Si disattivano Ste mod Mi sembra che avevo messo La mod Per i loghi realistici E non Non mi ricordo Se forse Allora Forse era su The Bus Boh Lo so Che qua vedo TML Invece era DHL Prima Bellissimo TML DHL Ma se io vado A Quanto è che sto andando 110 Quanto va a Mercedes E E stiamo Già oltre i limiti Cioè Il limite qua è 100 Ok Se tolto il limite Da 100 Si ritrova a 140 Ok Vi faccio vedere Ogni tanto Magari anche L'autobus Frontalmente Guardate quanto è Carino E' un VDL Questo No questo è E' il Vanhul Come lo chiamano loro Ok 18 km all'arrivo Quando si tratta di 18 km Iniziamo a vedere un po' di civiltà Notare anche le barriere Queste qua Barriere che vedete a sinistra e destra Servono Per andare a Attutire Il suono Generato dal traffico In modo che Teoricamente Le case Sentono meno rumore Vedete che qua ci sono Molte case Attigue Quindi Per evitare Appunto Questo problema Ci sono le barriere Antisuono Servono a qualcosa? Sicuramente a qualcosina Si Non certo Non fanno una differenza Che dice Oh è sparito completamente Il suono Però Penso che Buona parte Si Non si senta più Quindi Let's go Io devo andare dritto In realtà Ehm Il semaforo come funziona? Ok Andare dritto E rosso Quindi aspettiamo qua Al nostro bel Semaro Al nostro bel Semaforino Ehm Rispondete al telefono Pumicciota Crimia Pumicciota Crimia Bellissimo Lo zoom Comunque Non Ve l'ho detto Forse qualche gameplay fa Cioè Io ho deciso Alla fine Manterrò La serie MX Di Logitech Che è questo mouse L'MX Master 3S E Il loro MX Key S Ma poterà che non sono Mouse da gaming Non c'hanno le lucine Me ne frega un cavolo Ragazzi Me ne frega un cavolo Beh mi interessa La comodità Il mouse Secondo me Possiamo anche considerarlo È un mouse da gaming Questo raga Ok non è leggero Quindi magari Negli sparatutto Non va bene Però Per tutto il resto si Quello che non è sparatutto Va bene Va Va più che bene Perché È ergonomico Mi piace Mi piace Anche la tastiera In realtà Ehm Che non si tratta Di sparatutto Va bene E Mi piace il fatto Che è senza fili Quindi Non ho più Quel maledetto cavo Che ogni volta Mi rompeva Madonna mia Quanto mi rompeva Quel cavo E adesso Per fortuna Non c'ho più Quel cavo E Speriamo che durano Non la ricarica Ecco l'unica cosa È che devo ricaricarli Però anche lì La ricarica Una volta Ogni due settimane Il mouse Vabbè Quello che avevo Della Logitech A parte che non so neanche Dove l'ho messo Il mouse Della Logitech È iniziato A durare poco È una settimana Sei giorni Durava Ok Dobbiamo girare A sinistra Guardate la stazione Bello qua Cracovia Con tanto di Stazione ferroviaria Bello qua Questi sono dettagli Che ti piacciono Di un gioco Guardiamo un attimo Dall'esterno Fui una destinazione Perché Dall'esterno Abbiamo la possibilità Di goderci meglio I dettagli Per questo Poverac Se mantieni La tua corsia Magari Sarebbe una figata Ok Poi abbiamo Wow E sopra La superiore Qua Bella Mi piace Questa Mi è piaciuta Questa fermata Ragazzi Questa Per Cracovia Mi è piaciuta Magari Mi addentro Per fatti mie Dopo Dentro la La città Anche qui Siamo in anticipo Di 8 minuti Abbiamo beccato Il marciapiede Ma chi se ne frega Scolleghiamoci Ragazzi Io Spero che questo Video vi sia piaciuto Fatemi sapere Cosa ne pensate Di questo DLC Cracovia Polonia Se lo prenderete E noi ci vediamo Mi raccomando Lasciate mi piace Tutti i link In descrizione Noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao